Sto giro ci siamo messi in un casino Cioè, la puntata penso più difficile ad oggi Come facciamo a fare degli argomenti? Che idee ci possono venire in mente? Direttamente dagli studi segreti di Playmate Games Che gioa al Nerd Late Show 3, 2, 1 Sono un vero nerd Vedo solo in 8 beat come i vecchi videogiochi Sono un vero nerd Sento solo i suoni finti dei sintetizzatori Sono un vero nerd Ciao a tutti che sono al Nerder Eh, anche il nome adesso vi è andato Benvenuti in questa nuova puntata, nuovo episodio Delle 6 idee che ci vengono in mente Appena sentiamo il nome Call of Duty World War II Il fatto è che abbiamo fatto un po' di fatica a essere simpatici e spiritosi questa volta Meno male che come sempre Abbiamo il nostro scamotage per rompere il ghiaccio Il forno caldo di Gio Pizza 3, 2, 1 Grandi Gio Pizza Grande Pizza e soprattutto sempre buona Saluti a Fry Poi proseguiamo questa puntata di Casual Nerd Late Show Le 6 cose che ci vengono in mente quando sentiamo parlare di Call of Duty World War II Con il servizio che ormai lascia tutti quanti sulle spine Sappiamo che è un appuntamento che tutti quanti aspettate E quindi non perdiamo tempo Andiamo a vedere Mea Con i film da vedere on the road Che film di guerra sicuramente Ha scelto Bella Tash, ciao, grazie per la linea E un ciao a tutti gli amici Ma soprattutto alle numerosissime amiche del Casual Nerd Late Show Io sono Mea del sito ifindavedere.it E oggi mi trovo in Normandia In una delle spiagge più famose per lo sbarco durante la seconda guerra mondiale Per parlarvi appunto di questa guerra Di film attinenti a questa guerra Ce ne sono un sacco Sicuramente ne conoscete più di me Sono quasi tutti drammatici Molti sono belli Sono validi Fanno riflettere Ma siamo in un contenitore nerd Quindi cosa voglio segnalarvi oggi? Due film in particolare Uno è del 42 È un film in bianco e nero Molto particolare Ma divertentissimo Che si chiama Vogliamo vivere Vogliamo vivere Parla di una compagnia teatrale Di polacchi Di Varsavia Che durante l'occupazione nazista Si troveranno a dover inscenare Delle piccole Come chiamarle? Delle piccole rappresentazioni Per scampare al pericolo del nemico nazista È assolutamente divertente Ve lo consiglio Se non avete mai visto un film in bianco e nero È il modo ideale per iniziare Perché fa morire da ridere L'ho già detto forse E perché Ernest Lubisch Il regista è uno dei più grandi direttori Dietro la macchina presa Di tutti i tempi Un altro film che probabilmente è molto più nerd È Dead Snow Dead Snow È assolutamente un film da vedere È molto trash Perché parla di nazi zombie Nascosti in delle montagne Di chissà dove È un film che è assolutamente pieno di sangue Pieno di schizzi Pieno di arti tagliati E pieno di zombie Avete mai visto un nazi zombie? No? Ecco bene Questa forse è La pellicola ideale Per iniziare questa Strana tipologia di film Bene Credo che A tema seconda guerra mondiale Possiamo Possiamo Parlare per ore e ore e ore Però questi credo siano due Film particolarmente adatti A un pubblico nerd Come sempre vi aspetto Nei commenti qua sotto Sulle pagine Dei film da vedere Della casual nerd Per sapere se questi film Vi sono piaciuti Se li avevate già visti Se vi ispira a vederli O se Fateci sapere Quello che pensate Nei commenti qua sotto Un saluto Un abbraccio a tutti Alla prossima puntata E ciao Grazie Mea per i tuoi consigli Sono sempre dei grandissimi film E noi sicuramente li guardiamo Voi li guardate? Dateci le vostre opinioni Sulla recensione di Mea E dei www.ifilmedavedere.it Andate a vedere anche lì Sul loro sito Ci sono tantissime altre recensioni Suddivise per genere Ok Siamo arrivati nel momento Che più ha tenuto in ansia La redazione Quando è uscito fuori l'argomento Negli studi della direzione Ci sono messi a tremare Perché Veramente L'argomento Poteva essere Ed è sicuramente delicato E di conseguenza Noi cerchiamo sempre Di fare le cose Con ironia E simpatia Ma siamo anche molto curiosi Di vedere cosa si è inventato Questa volta Diego E chi avrà intervistato Andiamo a vedere Diego di Lego In che guaio si è cacciato Buongiorno a tutti Oggi abbiamo Un'esclusiva mondiale Signori Tutti in piedi Oggi Per voi Solo Dal vostro Diego di Lego L'intervista All'unico All'originale Baffetto Sì Proprio Quel Baffetto Buongiorno Signor Baffetto Grazie Buongiorno Diego Signor Baffetto Inizio subito Con le domande Lei È mai stato tagliato? Ovviamente Più di una volta Altrimenti Sarei Lunchissimo Scusi Ho detto una stupidata Non si preoccupi Sono abituato Sa quante ne ho dovute Sentire io Ti stupidate Eh Immagino Ma Torniamo a noi Lei In tutte le foto È sempre Dritto Perfetto Qual è il suo ceretto? In realtà Diego Io sono Unto Sono impegnato Di grasso e olio Crauti E sugo Mi annunci pure? No no Mi fido Mi fido Lei Mi vede così Ma in realtà Io sono Paffo triste Molto triste Sono nato Paffo Ma in realtà Avrei voluto essere Pelo pubblico Non sia triste Signor Baffetto Garantisco Che lei Passerà la storia Per essere stato Pelo pubblico A tutti gli effetti Grazie Diego Grazie Lei Trapparci Sempre Una risata La Casual Nerd Late Show Delle 6 cose Che ci vengono in mente Quando sentiamo parlare Di Call of Duty World War 2 Prima parte Finisce qua E adesso Mi invitiamo Ad andare A mettere like Sulla nostra pagina Instagram Casual Nerd Late Show E sulla nuovissima pagina Facebook Casual Nerd In più Potete iscrivervi Al canale Mettere un pollicino Verso l'alto Se vi è piaciuto Questo video E Segnarvi con la campanellina Per non perdere Nessun appuntamento Grazie a tutti Casual Nerd Late Show Prima parte Finisce qua Alla prossima Buon lavoro Meo Meo Buon lavoro Mea Buon lavoro Mea La redazione Qualcuno ha fatto la cacca Pante 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 Seu虚 Schon kaka parti Ahhhh!